La TOD ha reclutato diversi lavoratori forzati, alcuni anche volontariamente si sono prestati e questo poteva evitare loro l'internamento, per esempio nei campi di concentramento? Ma io direi che studiare l'internamento dei civili, dei lavoratori civili, ci porta prima di tutto in una dimensione che non è stata finora sufficientemente studiata. Sappiamo molto di più degli internati militari, che erano anche numericamente molti di più, erano circa 650.000, mentre parliamo di stime ovviamente, gli internati civili, deportati civili, sono circa 100.000, più altri 100.000 lavoratori italiani che già si trovavano in Germania prima dell'8 settembre del 1943. Quindi è una realtà ampia e anche una realtà estremamente complessa, perché i comportamenti dopo l'8 settembre del 1943, da parte di coloro che rischiavano di essere internati e costretti a lavorare, furono comportamenti molto diversi. C'è chi sceglie di lavorare con la TOD perché questo garantiva di non essere arruolati nel costruendo esercito della RSI, oppure di non essere arruolati e tornare a combattere per la Wehrmacht. C'è chi invece sceglie di ovviamente fare il partigiano e andare in montagna, ma ci furono anche partigiani che per svernare, cioè per riuscire a sopravvivere nei mesi più difficili, anche con la condiscendenza, diciamo, dei loro gruppi, finirono con lavorare per la TOD. Ovviamente c'è anche il contrario, ci fu chi invece non volle lavorare e scelse altre strade. Quindi addentrarsi in questa dinamica significa prendere contatto con una realtà estremamente complessa. Per questo noi, col convegno che stiamo facendo qui alla Spezia, vogliamo ricostruire questa storia. Perché prima di tutto non è stata ancora ricostruita a livello globale. Per il livello globale intendo non solo l'Italia centro-nord, ma il fatto che tutto questo è inserito in una storia di schiavitù del lavoro che riguarda milioni e milioni di militari, prigionieri dell'asse e nelle terre occupate dal Reich e milioni e milioni di civili che furono utilizzati per il lavoro. Quindi questa è, come dire, va studiata in rapporto all'Europa, non soltanto in rapporto all'Italia. Riuscire a dare un nome, un volto, una storia a ciascuno di loro è fondamentale. Ed è fondamentale anche perché, diversamente dagli internati, i civili non hanno scritto diari, non hanno lasciato memorie, non hanno parlato della loro storia.